Eccoci benvenuti all'ultimo appuntamento del ciclo coding per la secondaria anche oggi lavoreremo su processing, l'ambiente di programmazione nonché il linguaggio di programmazione che avete conosciuto anche nei due webinar precedenti e oggi affronteremo il tema del data visualizing, ovvero la visualizzazione dati Allora, eccoci benvenuti, cominciamo il nostro webinar durante questo video vi mostrerò un esempio tratto da, un esempio di codice ovviamente tratto da questo libro, Visualizing Data, di Ben Fry che è uno, tra l'altro, uno dei programmatori che ha realizzato il linguaggio di programmazione e processing che avete già visto negli scorsi webinar e diciamo, vi mostro subito un pochino qual è il codice che andremo un pochino a implementare step by step, quindi passo dopo passo durante il video ve lo mostro, apro la finestra di processing quindi andremo a rappresentare una tabella di dati ovviamente, come dire, utilizzando gli elementi, le funzionalità grafiche tipiche di processing come vedete in questo caso, vedete che andiamo a fare una rappresentazione dati sovrapposta, diciamo, a un'immagine in questo caso la mappa degli Stati Uniti e quindi non sarà però la cosa interessante che grazie a processing possiamo creare questo tipo di rappresentazione visuale possiamo renderla dinamica, quindi non statica questa che vedete non è una foto, ma è un programma che sta girando quindi questo significa che posso interagirvi col mouse, vedete o anche con dei tasti della tastiera in questo caso il tasto spazio dove posso creare delle animazioni in questo caso ci sono proprio dei nuovi valori nella tabella di riferimento dei dati che vengono generati casualmente ed abbinati alle capitali in questo caso alle capitali dei singoli stati degli Stati Uniti d'America quindi vedete che è un tipo di rappresentazione creativa molto personalizzata perché chiaramente ci permette di utilizzare immagini di vario tipo immagini statiche come gli Stati Uniti che fanno da sfondo o immagini dinamiche come questi cerchi che ovviamente diciamo sono più grandi o più piccoli secondo il parametro secondo il dato, il valore a cui fanno riferimento stessa cosa per quanto riguarda il colore vedete in questo caso per esempio il colore questo colore viola scuro, ora non riesco questo blu viola come dire rappresenta il dato i dati caratterizzati da segno positivo e quello rosa caratterizzati da segno negativo e poi ovviamente il raggio del cerchio è direttamente proporzionale alla grandezza del dato che in questo caso 6,83 è un po' più grande di 1,93 insomma circa 3 volte il diametro del cerchio abbinato alla capitale qui dello Stato dell'Oklahoma ok? bene una piccola introduzione teorica come già vedete sullo sfondo sul primo capitolo appunto del libro Visualizing Data e poi partiamo subito passo passo a vedere il codice allora il libro subito esordisce esponendo diciamo i sette stadi della visualizzazione dati che sono un po' questi sette l'acquisizione, il parsing o analisi se uno lo vuol dire in italiano di solito in programmazione si usa la parola parsing che cosa significa? l'acquisizione va bene è abbastanza chiara ovviamente uno può acquisire dei dati magari in tempo reale da un sensore oppure avere già una base dati un dataset prestabilito scaricato dalla rete o in qualche modo insomma già confezionato che deve essere solo rappresentato fare il parsing significa in qualche modo fare un'analisi della struttura interna al dato per esempio dividere un tot di numeri una serie di numeri che sarà organizzata in righe in colonne eccetera eccetera poi c'è la parte del filtraggio molto importante soprattutto per i dati magari che sono estrapolati dati ambientali estrapolati da sensori che ricevono molto rumore molti dati parassiti che poi non servono all'analista quarto punto l'estrazione il mining che insomma è abbastanza comune leggere nei giornali nei blog insomma si parla sempre di data mining l'estrazione che cosa che cosa consiste poi nel trovare un pochino dei pattern degli schemi degli schemi ricorrenti all'interno del proprio dataset 5 rappresentazione quindi scegliere poi un modello visuale grafico con cui rappresentare i nostri dati insomma da quelli più comuni gli istogrammi le tabelle i diagrammi a torta eccetera eccetera e poi il numero 6 il perfezionamento in qualche modo dove si migliora un po' la rappresentazione grafica anche dal punto di vista estetico funzionale della nostra rappresentazione insomma si perfeziona si rende più raffinata la nostra rappresentazione grafica lo vedremo anche più avanti e poi il punto 7 l'interazione che abbiamo già visto nell'esempio che magari vogliamo anche che la nostra rappresentazione risponda a degli input da parte del del relatore insomma della persona che presenta questi dati ovviamente non è detto che tutti i sette stadi in qualche modo debbano essere seguiti perissequamente ovviamente uno le può anche saltare qualcuno e non è non è una non è una un percorso obbligatorio la cosa più interessante di questo libro è proprio il fatto di in qualche modo usare processing come strumento come tool di per ottenere personalizzazioni in qualche modo estreme totalmente proprio personalizzate rispetto ai dati che vogliamo che vogliamo mostrare e soprattutto come li vogliamo mostrare per non essere vincolati diciamo agli strumenti un po' chiave in mano quelli che troviamo dentro google fogli excel eccetera insomma per non essere vincolati alle tradizionali rappresentazioni ma poter fare qualcosa di più creativo dinamico e interattivo altra cosa interessante del libro è che tutti gli esempi contenuti che potrete anche scaricare adesso vi mostro il link in qualche modo non si appoggiano su una libreria specifica ma sono in qualche modo tutti realizzati utilizzando le funzioni di base ma toncini di base del linguaggio processing questo li rende appunto più trasparenti per lo studio e perché non sono appunto basati su una libreria che in qualche modo è già stata realizzata a chiave in mano è un po' la differenza che potrete trovare magari in scratch per chi di voi è abituato o conosce un po' scratch che sapete che alcune cose per esempio la gestione del midi la gestione del makey makey la gestione del lego we do nell'ultima versione di scratch è totalmente demandata delle estensioni aggiuntive che devono essere aggiunte facendo aggiungi estensione immaginate che che alcune cose invece possano essere la differenza tra l'usare un'estensione e usare invece i blocchetti standard quelli che ci sono di default ovviamente usare riuscire a fare qualcosa con i blocchetti di default magari è un pochino più faticoso in termini di numero di istruzioni i blocchetti da dare da inserire diciamo nel codice di scratch però rende sicuramente il tutto più leggibile più trasparente per lo studio insomma per le finalità didattiche stessa cosa è qui invece di usare una libreria già chiave in mano dove con un rigo fai un sacco di cose la maggior parte degli esempi sono costruiti dai mattoncini di base di processing come ho detto poco fa potete scaricare i codici di esempio anche senza acquistare il libro da questo sito che è il sito dell'autore dove ci sono appunto i codici esempio scaricate nello specifico noi andremo a lavorare appunto sulla mappa degli Stati Uniti e quindi capitolo 3 scaricate e viene scaricato un file zip che ovviamente andrete a decomprimere posizionerete poi la cartella dopo la dopo l'unzip posizionerete la cartella all'interno della cartella processing che viene creata in automatico quando installate processing la mettete qua dentro fate copia e incolla dopodiché entrerete in processing e farete semplicemente apri open e andrete a cercare nella vostra cartella processing appunto troverete la cartella visualizing data scusate e avete questo qui intanto sono tutti diciamo sono tutti i file relativi appunto al capitolo 3 che è quello della mappa degli Stati Uniti e sono un po' tutti gli step qui ci sono vari codici un pochino da studiare sono 17 sono tutti step passi che ci porteranno piano piano a realizzare quello che abbiamo mostrato all'inizio con alcune variazioni con alcune tecniche diverse e le insomma le commenteremo adesso via via partiamo dal primo step dal primo passo che è mostrare la mappa entro nella cartella e devo aprire questo file qui ok analizziamo rapidamente il codice come vedete è molto breve su un pannello singolo i pannelli sono le tab cioè sono pagine di codice che posso gestire in parallelo e le aggiungo da qui new tab per esempio prova ok qui ce n'abbiamo una sola il codice è molto breve viene creata una variabile di tipo image pimage che è diciamo l'oggetto che processing usa per gestire le immagini chiamiamo questa variabile mapimage poi nel setup size significa semplicemente le dimensioni della finestra che andiamo a creare e abbiniamo alla variabile mapimage l'immagine map in png che e voi vi chiederete da dove viene questa immagine la troviamo negli esempi noi abbiamo aperto questo esempio se vado vedete è stata aggiunta anche la tab prova se vado in data ecco qui ci sono i file che io posso allegare importare dentro il mio codice e qui c'è il png degli stati uniti aspettiamo un attimo che lo apra eccolo qua ok questo è semplicemente un png una risorsa esterna che andremo a importare nel nostro nel nostro codice chiudo eccoci qua quindi leggiamo map png e il setup come sapete così come avviene in arduino come ho detto anche nei precedenti webinar il setup è semplicemente la parte del programma che viene eseguita solo una volta all'inizio dopodiché entriamo nel draw che equivale al loop di arduino cioè la parte del programma che viene ripetuta all'infinito finché non stoppiamo il programma background significa background 255 significa semplicemente il colore dello sfondo in questo caso bianco e niente viene allo sfondo viene sovrapposta l'immagine map image e posizionata a 0 sono le coordinate x y faccio partire il mio codice ed ecco semplicemente viene mostrata l'immagine ok questo è il primo passo procediamo andiamo avanti con gli altri esempi chiudo la finestra stoppo e aprirò lo step successivo faccio apri e andiamo step 0 1 puntini rossi e vediamo un po' che cosa farà questo codice vediamo cosa fa questo codice appunto ho ingrandito la finestra per renderlo più visibile vedete viene creata la variabile la variabile map image di tipo pimage poi viene creata un'altra variabile di tipo tab l location table e poi una variabile intera che serve insomma per fare il conteggio delle row e la riga ok vediamo nel setup che viene fatta la stessa cosa di prima in qualche modo viene appunto inizializzata map image tramite a cui viene abbinato il file map map punto png e poi viene inizializzato location table a cui viene abbinato questo file qui location punto tsv a cosa corrisponde questo file cosa c'è dentro questo file e per saperlo torniamo nella nella cartella dove è contenuto il nostro esempio quindi ritorniamo qui dentro la cartella che abbiamo messo dentro la cartella processing l'esempio è questo dei red dots dei puntini rossi entriamo in data e vediamo cosa c'è in questo file appunto location punto tsv guardiamo le proprietà e ci dicono appunto che è un file punto tsv che significa tab tab separated values ok quindi apro e infatti semplicemente c'è la sigla di una capitale e le coordinate x y separate dal tab ok non dalla virgola come nei file csv torniamo al nostro codice e vediamo come procede qui viene creata questa variabile row count che estrae il conteggio appunto delle righe dalla nostra tabella che è corrispondente appunto al numero delle righe del file locations punto tsv entriamo nel draw e vediamo che cosa c'è allora abbiamo di nuovo il nostro sfondo bianco l'immagine che viene sovrapposta allo sfondo poi queste qui smooth fill no stroke sono diciamo dei parametri di rappresentazione della figura che arriverà dopo che saranno appunto le ellissi perché i cerchi in le circonferenze in processing vengono comunque rappresentate espresse con una funzione che si chiama ellipse dove si indica le coordinate del del centro e i due due diametri il diametro orizzontale e il diametro verticale ovviamente se voglio ottenere una circonferenza un cerchio il diametro orizzontale e verticale saranno equivalenti come in questo caso vedete 9-9 ok quindi qui che cosa ci dice drawing attributi per il disegno delle ellissi smooth significa semplicemente che la renderizzazione del bordo è ad alta risoluzione quindi vedremo meno puntini meno scalini tra un pixel e quell'altro fill è il colore espresso con il con il tradizionale la tradizionale codifica rgb red green blue no stroke vuol dire che non non c'è un bordo non viene la figura viene rappresentata senza un bordo a cui teoricamente potremmo assegnare uno spessore o un altro colore poi all'interno di questo ciclo for rigo per rigo dalla nostra tabella vengono estratte le coordinate per le varie ellissi che come vedete ne verranno fatte tante però tutte queste ellissi differiranno tra di loro solo per le coordinate non per il diametro infatti premo run ed eccole qua ok abbiamo messo tutte le capitali di tutti gli stati della nostra della nostra mappa una precisazione rispetto alla parte iniziale del codice dove c'è la dichiarazione delle variabili la variabile di tipo table viene in qualche modo definita da vedete che qui c'è un altro pannello table viene definita dalla classe ora sarebbe ora troppo un po' complicato da come dire suggerisco sempre il libro che già già suggerito nel webinar precedente getting started with with processing e lì diciamo c'è una spiegazione molto chiara di cosa sono le classi diciamo che questo pezzo di codice che trovate nella nel pannello table in qualche modo definisce e spiega al nostro ambiente di programmazione che cos'è una una variabile di tipo table ok altrimenti se togliessi questo per esempio faccio vediamo se lo fa perché un esempio non è detto che infatti non mi fa editare il pannello però facciamo che cancello interamente il codice chiaramente mi dà poi un errore che non è definito che cos'è table l'oggetto table perché ciò che lo definiva era questo pezzo di codice qui che era qua dentro ok andiamo avanti con l'esempio con il passo successivo di nuovo apri open e scegliamo questo qui step 2 taglie misure variabili ok apriamo eccolo qui andiamo subito a vedere che cosa che cosa fa così poi commentiamo meglio il codice faccio run ed eccolo qua a questo punto le nostre ellissi non hanno più la stessa misura ma hanno una misura variabile che varierà in funzione del dato sottostante contenuto nella tabella ok ovviamente la tabella ora mi sono dimenticato di dirlo all'inizio la tabella dei dati contiene dati generati casualmente non sono dei dati statistici veri sulle capitali degli stati stati uniti ok ma sono dei dati come di casuali che ci comunque ci servono per il nostro per il nostro per la nostra video lezione ok in questo caso quindi le la misura delle delle varie ellissi dei vari cerchi è direttamente proporzionale all'entità proprio del del dato stesso all'entità alla quantità numerica del dato stesso andiamo a vedere come è stato fatto e vedete qui è uguale a quello allo step precedente che cosa cambia che viene anche creata un'altra tabella vedete che viene creata un altro oggetto tabella il primo è location table e l'avevamo visto anche all'inizio qui c'è anche data table ma la classe table rimane una perché diciamo si usa la classe è unica descrive come funziona una tabella almeno come la vuole far funzionare il programmatore e la classe viene quando viene chiamata più volte si dice che vengono fatte più istanze e le istanze si chiamano oggetti ok due oggetti in questo caso data table e location table riconducibili a una stessa classe di oggetti ok classe di oggetti possiamo dire appunto sia l'idea l'idea progettuale dell'oggetto l'idea platonica dell'oggetto in qualche modo che poi diventa concreta attraverso delle istanze in questo caso abbiamo due istanze che si chiamano poi concretamente si chiamano oggetti l'oggetto location table e l'oggetto data table ok poi vengono dichiarate due variabili float quindi con la virgola data minimo e massimo perché c'è una funzione più avanti che ci serve per stabilire che fa un giro diciamo fa un giro nella tabella all'inizio nel setup eccola qua vedete find minimum and maximum values perché minimum and maximum values ok perché fa un giro dentro la tabella per vedere quali valori per stabilire un massimo ed un minimo in modo poi da regolarsi fare poi una normalizzazione per regolare la rappresentazione grafica quindi il diametro delle nostre ellissi e anche più avanti poi il colore perché chiaramente dobbiamo come dire in qualche modo compattare il range dei valori altrimenti uno rischia di avere poi delle rappresentazioni fuori scala e quindi il setup è uguale a quello precedente si aggiunge appunto questo ciclo for che va a estrapolare i dati dalla tabella per creare appunto per stabilire in automatico un massimo e un minimo e poi nel draw tutta la prima parte è uguale a quello che abbiamo visto in precedenza e qui poi c'è tutta la parte appunto di estrazione dei valori della x e della y e del valore del dato proprio numerico quantitativo e viene richiamata in quest'ultima riga vedete draw data viene richiamata una funzione esterna draw data e concretamente in quale riga vengono poi disegnate le ellissi nell'ultimo ellipse x y l'abbiamo visto anche prima per il centro ma vedete che adesso anche i diametri non sono espressi in numeri assoluti come era precedentemente 9 e 9 ma sono espressi con la variabile con una variabile che viene aggiornata in base ai dati vedete qui float mapped viene aggiornata dai dati che vengono tirati fuori dal dato value che viene tirato fuori dalla tabella la cosa interessante qui è l'uso della funzione map che serve per mappare è una funzione molto interessante se volete saperne di più come se volete saperne di più di tutte le funzioni di tutti i comandi di processing vi consiglio di fare un giro nel di fare un giro nel nel sito di processing andate nel reference vedete processing.org slash reference e andate a cercare e qui diciamo avete un po' è il libretto di istruzioni il vocabolario il glossario di tutte le funzioni di tutti i comandi o i tipi di dati che abbiamo a disposizione dentro processing andiamo a cercare dov'è la funzione map per sapere a cosa serve è molto utile la trovate sotto la categoria calculation eccola qui map ok qui insomma viene un po' spiegato come come si usa ma insomma andiamo velocemente alla descrizione che cosa ci dice rimappa un numero da un range a un altro in qualche modo fa corrispondere due range diversi fa un po' tutti i calcoli che fanno in modo che si muovano in maniera proporzionale due range differenti rivediamolo nel nostro nel nostro codice vedete qui la funzione map prende value come punto di come punto di riferimento ovvero lo prende appunto come come la variabile vedete remap the value to a number between 2 e 40 quindi prende il assegna a value un valore tra 2 e 40 che però è mappato sul range grezzo che c'è nei dati tra il minimo e il massimo in qualche modo ok perché lo mette tra 2 e 40 perché probabilmente sopra i 40 verrebbe un diametro delle listi troppo grande rispetto a rispetto diciamo all'immagine che abbiamo di sfondo cioè magari verrebbe fuori un'ellisse più grande dello stato stesso dello stato degli Stati Uniti sottostante ok infatti avete anche visto che alcune volte viene o lo vedremo più avanti però insomma per non esagerare in qualche modo lo stringiamo il il range e quindi mappiamo l'escursione dal minimo al massimo a 2 e 40 tra 2 e 40 e assegniamo il valore che ne esce fuori appunto a value ok cioè volevo dire il valore che esce fuori lo assegniamo alla variabile map che è poi il valore che va a fare da diametro alle due ellissie andiamo a vedere ok vedete prendete un po' a riferimento la grandezza attuale che vedete se io riduco questo range diciamo lo porto da 2 a 10 faccio ripartire il codice vedete che adesso il range è molto ridotto ma vengono comunque mantenute le proporzioni perché ripeto la funzione map prende value come riferimento vede vede dove si posiziona tra il massimo e il minimo grezzo e gli assegna e lo rimappa sul range che scriviamo dopo 2,40 come era inizialmente e quello che viene fuori viene assegnato in questo caso alla nuova variabile float mapped che poi costituisce il diametro dei nostri cerchi ok bene procediamo andiamo avanti con un altro esempio ho aperto l'esempio lo step 03 andiamo ve lo mostro subito ok come vedete qui ora ripeto non tutti gli esempi poi che ci sono sono mostrano tecniche che poi vanno a finire nella nella versione finale quella che vi ho fatto vedere all'inizio però è interessante per farvi vedere tutte le possibilità che abbiamo a disposizione in questo caso vedete che abbiamo colori diversi per i singoli puntini abbiamo per il momento è stato tolto il parametro di cambiare il diametro dei singoli cerchi dei singoli puntini i colori diciamo vanno seguono se guardate bene una certa gradualità vedete che i rossi non sono tutti uguali stessa cosa per i viola stessa cosa per i blu perché seguono un po' una mappatura rispetto appunto ai valori che poi ci sono dentro dentro la tabella quindi questo è interessante in qualche modo di utilizzare i colori in maniera dinamica rispetto a un valore andiamo avanti con un altro esempio perché ce ne sono tanti e quindi procediamo un po' veloce qui c'è un altro blu green qui c'è un'altra sfumatura hsb uguale semplicemente un altro sistema di codifica poi del colore andiamo allo step 06 perché questo invece è interessante ok qui qui già vengono mescolate qui ci avviciniamo al risultato finale che vogliamo e qui già vengono mescolate le due cose di rendere in qualche modo dinamico il diametro del nostro puntino del nostro cerchio e anche il colore come avevamo visto all'inizio poi il colore rosa se non ricordo male corrisponde ai numeri negativi e viceversa l'altro ai numeri ai valori positivi andiamo rapidamente a vedere il codice vedete qui nella funzione esterna finale che poi vedete ha sempre lo stesso nome come negli esempi precedenti negli step precedenti draw data il colore vedete c'è il commento blu e red viene codificato in questa riga fill che è proprio il numero del colore ora qui è codificato non in rgb ma in codifica esadecimale per sapere appunto quali codici corrispondono a un determinato colore potete usare come si usa anche nei browser eccetera potete usare anche in scratch c'è il color picker qui c'è il color selector quindi per esempio usiamo un colore a caso questo blu tendente al viola il codice rgb sarebbe 90 70 173 da scrivere 90 70 173 altrimenti qui c'è il codice esadecimale oppure l'altra codifica hsb come avevo fatto vedere prima nei titoli degli esempi ok e quindi cos'è che distingue qual è la condizione che determina che alla nostra al al nostro la nostra ellisse in qualche modo sia blu o rossa e appunto vedete se value è maggiore uguale a 0 altrimenti se è minore di 0 sarà rossa vi starete chiedendo come mai nella riga ellipse però non c'è nessun riferimento al colore c'è solo le coordinate e il diametro perché voi dovete pensare che il codice lavora in maniera dinamica e continuativa non statica cioè ogni continuamente questo codice viene ripetuto cioè noi io faccio run noi vediamo l'immagine ferma ma in realtà il codice sotto sta girando continuamente all'infinito perché il draw come abbiamo detto gira continuamente che cosa succede ogni volta che gira ogni volta che gira viene scelto il colore un colore o quell'altro e viene assegnato all'ellisse che viene o meglio l'ellisse che viene disegnata subito dopo viene disegnata di quel colore che è stato scelto quindi è come noi non ce ne rendiamo conto ma è come se queste ellisse fossero continuamente ridisegnate è questo che rende poi ci permette di fare anche l'interazione con la nostra figura dopo perché quella che stiamo vedendo non è un'immagine statica ma è un'immagine che viene costantemente riaggiornata rifresciata noi non lo vediamo perché adesso non sta cambiando niente però dal punto di vista del codice questo codice sta girando continuamente ok quindi semplicemente ogni volta che gira in base al numero al dato che arriva dentro se il dato è maggiore di 0 maggiore o uguale a 0 verrà scelto il colore blu e tutte le figure disegnate in questo blocco successive alla definizione alla scelta del colore blu se hanno fatte blu al giro dopo magari viene scelto il colore rosso e quindi l'ellisse che viene disegnata al ciclo successivo sarà rossa ok quindi questo è per questo che non vedete una definizione del colore un'indicazione del colore dentro la riga di disegno dell'ellisse ok andiamo avanti con un altro step siamo allo step 8 ho saltato il set perché comunque ha solo a che fare con un altro modo di definire altri parametri sul colore non è diciamo cruciale rispetto ad arrivare al nostro risultato finale siamo allo step 8 dove si parla dei rollovers che un po' come dice il nome è in qualche modo rendere il codice sensibile al fatto di passare sopra con il mouse di passare sopra a una parte a determinate coordinate vedete vengono mostrate le sigle del la sigla della capitale e il valore e questa animazione diciamo avviene quando passo con il mouse sopra determinate coordinate cosa c'è di diverso in questo esempio vedete che c'è sempre la classe table è sempre uguale anche via via che comunque anche il codice diventa sempre più complesso il riferimento però all'idea di alla classe tabella realizzata dal programmatore rimane sempre uguale dovete proprio pensare come un modello astratto che rimane sempre uguale e che però cambia nel momento in cui da astratto diventa concreto e quindi diventa oggetto diventa istanza all'interno del nostro del nostro codice che differenze ci sono nel setup vedete che viene anche importato un font perché vedete ci sono delle scritte quindi ovviamente andremo a scegliere un font ora a volte è anche più semplice di come si vede qui perché il programmatore ha voluto scegliere un tipo particolare di font altrimenti non è necessario importarlo perché comunque c'è già una scelta di default a parte del sistema e poi dovremo andare a vedere ora nel codice dove si trova dove si trova chiaramente quella parte che lo rende sensibile al puntatore del mouse perché questa è la grossa differenza rispetto a ciò che abbiamo visto in precedenza è il fatto che quando passo sopra con il mouse compaiono questi dati e vediamo nel codice dov'è questa questa funzione o questa riga è inserita questa questa funzione è inserita in questo blocco if vedete if sempre dentro la nostra funzione esterna draw data vedete che c'è come di che praticamente dice che se il mouse la x e la y del mouse sono in qualche modo all'interno di una distanza minore del raggio più 2 rispetto alle coordinate del puntino alle coordinate del centro del puntino allora niente ma mostrami una scritta che ovviamente rappresenterà dei valori che sono contenuti nella nostra nella nostra tabella e chiaramente è la sigla della capitale e il dato e il numero abbinato ok è interessante vedere appunto che viene mantenuto un certo range ricordatevi sempre che quando questo è una cosa di cui parlo spesso quando faccio la robotica soprattutto che il codice quando inizia ad avere un'interazione con l'esterno con l'hardware e in questo caso ce l'ha perché l'hardware in questo caso è il mouse oppure il trackpad il touchpad scusate che muoviamo che tocchiamo con il dito dobbiamo sempre mantenere un certo margine un certo range di errore e di come dire di un po' una certa tolleranza ok probabilmente se avessimo scritto un codice che dal punto di vista logico poteva comunque aver senso ad esempio dire che il mouse la x e la y dovevano semplicemente passare sopra la x e la y della coordinata del tondino eh sì probabilmente come esperienza d'uso non sarebbe stata gratificante perché non è semplicissimo come dire passare sopra un singolo pixel ok con il movimento grossolano della nostra mano e quindi bisogna in qualche modo trovare un po' una 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 giusta via di mezzo in questo caso il range di sensibilità è entro il raggio del del tondino del cerchio dell'ellisse scusate più due pixel così di di comporto probabilmente cerchiamo di capire più o meno la sensibilità vedete che qui questo puntino piccolo mi devo avvicinare così probabilmente viene da sé che se per esempio invece di raggio più due faccio raggio per due l'area di sensibilità raddoppierà vediamo prendiamo un puntino piccolo e vedete che si attiva anche quando non arrivo a toccare precisamente il puntino se invece di raggio per due faccio raggio per due per due quindi per quattro due volte per due l'area di sensibilità aumenterà ancora di più vedete ora sono parecchio distante dal puntino ma la scritta viene attivata ok chiaramente più il cerchio più l'ellisse è grossa più l'area di sensibilità guardate qui arriva addirittura fuori dallo stato ok questo che è stato sarà il Wyoming ok vedete quanto è interessante lavorare con processing perché ci permette di lavorare molto bene sulle interazioni modificando veramente dei pezzetti di codice molto piccoli e abbastanza chiari ok bene andiamo avanti siamo quasi alla fine andiamo allo step successivo apro e andiamo allo step nove vabbè qui cambia poco c'è sempre il rollover però con i nomi completi invece che con le sigle ok eccolo qua siamo quasi alla fine procediamo andiamo avanti apro eccolo qua andiamo all'undici randomize on keypress e qui la cosa diventa interessante perché oltre ad avere il rollover come vedete quando premo il tasto spazio viene i dati cambiano dinamicamente ora qui cambiano in maniera casuale come così come sono di fatto casuali i dati di partenza chiaramente questo cambio può avere un'animazione che ha un senso rispetto a un'evoluzione temporale di un dato e tutto quello che vogliamo ovviamente possiamo fare in modo che questo cambio sia non gestito ogni volta da un singolo colpo sul tasto ma che vada un po' da solo secondo una certa un certo frame una certa divisione temporale ok andiamo a vedere nel codice cos'è che qual è la funzione che ci permette appunto di riaggiornare la nostra rappresentazione ogni volta che premiamo il tasto spazio andiamo nel codice ed eccolo qua è questa funzione qui l'update della tabella è il cambio dei valori ma soprattutto è la funzione keypressed che ci dice che quando premo il tasto in questo caso è uno spazio non lo si vede compreso fra fra due due apostrofo due caratteri apostrofi non so se si dice in plurale comunque è uno spazio questo carattere qui se mettessi per esempio la A così come avviene in scratch con i blocchetti se mettessi la A parto ora voi non mi vedete ma sto premendo la lettera A e cambiano i cambiano i valori come abbiamo visto in precedenza quindi questa è la funzione che ci mette a disposizione la tastiera come strumento di interazione la differenza rispetto a quello che abbiamo fatto a vedere all'inizio ci siamo quasi è una cosa sostanzialmente estetica ma molto carina andiamo avanti all'esempio dopo che è dov'è 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 gli integrators eccolo qua che vedete che è uguale ora qui questa ha una tabella senza al momento senza valori quando premo ecco vedete che sbucano fuori dei valori e in qualche modo questa è una rappresentazione più dinamica vedete che anche il come dire l'aspetto grafico del di come si aggiornano i i vari cerchi le varie ellissi è più morbido è meno meno tutto insieme vedete proprio si vede come dire come se fosse un passaggio di fluido da uno all'altro e questo ci permette anche appunto di fare poi visualizzazioni più dinamiche qui il codice è un pochino più complicato perché vengono introdotte altre funzioni di cui trovate comunque il riferimento nella pagina reference del sito processing e quindi diciamo ora magari spiegarle tutte tutte rischia di essere un appesantimento diciamo non necessario perché comunque quello che mi interessava a mostrarvi era proprio le capacità grafiche infatti vedete che qui tra l'altro viene aggiunta una nuova classe integrator appunto che ci permette appunto di simulare vedete che ci sono variabili come accelerazione forza velocità massa ci serve anche un po' per simulare l'aspetto proprio grafico e visivo di comportamenti simil naturali quindi come un fluido che si muove in questo caso simile a un fluido che si muove appunto vediamo uno che si svuota l'altro che si riempie eccetera tutti questi riferimenti comunque li trovate nella pagina reference del sito processing quello che ci interessava che mi interessava mostrarvi era appunto le possibilità grafiche di processing che ovviamente sono enormi perché nasce per questo per essere un linguaggio di programmazione dedicato come possiamo dire alle arti digitali visive e chiaramente la rappresentazione dati uno lo può anche interpretare appunto in maniera più artistica più creativa e questo è sicuramente uno strumento potente relativamente semplice da comprendere e che come ho già detto in altri webinar ha il grosso vantaggio rispetto ad altri linguaggi di essere di essere dal punto di vista sintattico molto simile al linguaggio di arduino e quindi in qualche modo uno impara in una volta sola impara due linguaggi ok io vi saluto e ci vediamo e ci sentiamo come di consueto al prossimo webinar o alla prossima video lezione ciao ciao Grazie a tutti.